buonasera ragazzi benvenuti alla diretta di questa settimana di libera le tue parole come va? spero tutto quanto bene come sempre condividerò la diretta all'interno del gruppo di libera le tue parole e poi tra le varie persone che la seguono quindi innanzitutto mentre sorseggio la mia bevanda antibalbuzie i cui ingredienti purtroppo non posso divulgare perché sono ovviamente degli ingredienti segreti io intanto condivido questa cosa ovviamente non esiste nessuna bevanda antibalbuzie e come ben sapete non esiste nemmeno nessun farmaco antibalbuzie anche se purtroppo sono sempre più sviluppate le ricerche su delle cure farmacologiche per la balbuzie e come ben dico già cura della balbuzie è un termine che effettivamente non si addice molto per la balbuzie perché la balbuzie non è assolutamente una malattia la balbuzie è semplicemente un'abitudine quindi parlare di cura di un'abitudine effettivamente è un qualche cosa che stona un po mentre ovviamente si può parlare assolutamente di abitudine da cambiare con un altro tipo di abitudine poi che questa sia ovviamente un'abitudine disfunzionale che giustamente comporta sicuramente un riverbero dal punto di vista della comunicazione molto poco funzionale questo ovviamente ormai è risaputo però parlare di malattia della balbuzie effettivamente è un qualche cosa di veramente forte io intanto condivido la diretta quindi mi serve qualche istante ok credo di averla condivisa abbastanza e rosalba ciao magari se mi deve una mano a condividerla semplicemente all'interno del gruppo senza che lo faccio io nicola buonasera pure a te e quindi nicola stavo dicendo che sto bevendo la bevanda antibalbuzie che purtroppo tu non conoscerai mai e che giustamente consente di parlare fluentemente solamente a chi la beve quindi scherzi a parte questa sera ragazzi voglio parlarvi di un argomento molto interessante un attimo solamente che ho dimenticato qualche persona credo di aver invitato quasi tutti alla diretta ragazzi intanto come va Giovanni buonasera buonasera anche a te mi fa piacerissimo che sei collegato anche tu ok credo di averla condivisa abbastanza ragazzi quindi stavo dicendo buonasera Sara pure a te stavo dicendo questa sera voglio parlare di un argomento molto importante perché perché in questi giorni potresti farmi qualche consulenza privatamente per darmi qualche dritta tecnica per fare qualche cosa per eliminare la balbuzia allora io ho detto come sempre non posso farlo assolutamente perché Nicola di Mauro scrive la peperoni no non è la peperoni questa birra cioè questa bevanda scusatemi questa qua è semplicemente il Gatorade che non sto facendo assolutamente pubblicità alla Gatorade e ovviamente non fa smettere di balbettare per niente stavo dicendo che in questi giorni quindi mi avete chiesto se potevo fare qualche consulenza insomma ovviamente queste consulenze perché non le faccio perché per smettere di balbettare non basta semplicemente una consulenza dove un paio d'ore ti do qualche dritta tecnica e poi ovviamente tu smetti di balbettare non funziona così per smettere di balbettare ovviamente non basta qualche dritta tecnica non basta neanche un corso di un giorno sette giorni un mese manco ma serve come dico sempre un percorso e ripeto mi fa piacerissimo che adesso quelli che gestiscono i corsi adesso li cominciano a chiamare percorsi quindi già è un passo in avanti è un passo in più significa che stanno iniziando a comprendere che per eliminare la balbuccia il percorso è lungo non bastano delle semplici dritte tecniche ma soprattutto perché tutto quanto questo c'è una frase che leggo spesso che mi ha colpito tantissimo dalla prima volta che l'ho letta e questa frase dice così dice che una conoscenza superficiale a volte può essere molto più dannosa di quella che è l'ignoranza stessa cioè della non conoscenza cioè io in pratica magari imparo a fare una cosa però la imparo a fare a livello superficiale cioè non mi occupo Rossella buonasera cioè non mi occupo di conoscere profondamente quella cosa lì e magari sono anche convinto che quella cosa la sto facendo bene ma in realtà poi quando vado ad applicare quella cosa i miei risultati scarsiggiano cioè non ottengo il risultato che io voglio e quindi che cosa può succedere? può succedere che poi a lungo andare comincio poi a credere ok non si può smettere di balbettare perché ci ho provato ho utilizzato questi strumenti ho utilizzato quelle due dritte tecniche che Ottavo mi ha dato tra l'altro non ho pure pagato un sacco di soldi e non hanno funzionato io ovviamente ho detto di no a queste dritte tecniche perché perché se volete iniziare il percorso di vivere le tue parole ok già vi ho detto che è un percorso importante impegnativo è un percorso giustamente lungo che ha i suoi tempi ma dritte tecniche anche se volete sborsare moltissimi soldi ve le sconsiglio assolutamente e vi dico scappate da quelli che vi propongono cose di poche ore e smettere di balbettare i 24 ore perché sono delle stronzate e ovviamente vogliono semplicemente fregarvi ma su cosa giocano questi qua? giustamente giocano su quella che è la pigrizia cioè perché è molto molto facile no? parlare appunto della bevanda antibalbuzia di cui ho parlato prima per scherzare oppure della cura farmacologica per la balbuzia cioè parlare del farmaco che ovviamente ti fa smettere di balbettare se esistesse un farmaco per riuscire a smettere di balbettare giustamente sarebbe già in commercio ma il solo fatto che sono così tanti gli investimenti su una presunta cura farmacologica per quanto riguarda la balbuzia fa comprendere che le persone in generale sono molto pigre e quindi vogliono tutto quanto subito vogliono la pillolina per smettere di si è bloccata la connessione spero che mi sentite lo stesso io intanto parlo magari se mi fate un feedback se mi scrivete qui sotto e mi dite ottavi la connessione va bene riesco a sentire e tutto quanto mi dite un attimo un feedback ancora bevo la bevanda antibalbuzia comunque che dite mi sentite? se fosse così facile ovviamente smettere di balbettare giustamente tantissime persone non mi contatterebbero perché avrebbero già smesso di balbettare da molto tempo e proprio perché appunto dicevo che la maggior parte delle persone sono molto pigre vogliono tutto quanto subito appunto questo fa anche comprendere perché la scienza, l'università spesso investe moltissimo su una cura farmacologica perché giustamente sai c'è tipo è quella cosa che fa sì che tu prendi la pillola te la bevi, cioè la ingoi, bevi un po' d'acqua e poi niente poi tutto quanto magicamente svanisce la maggior parte delle persone non vuole lavorare, non vuole mettersi in gioco e non si rende conto che in pratica la balbuzie è un meccanismo molto radicato è un meccanismo mentale molto radicato e se io balbetto da 10 anni, 20 anni, 30 anni come posso mai eliminare un'abitudine così radicata in pochissimo tempo? è veramente una cosa impossibile, ovviamente impensabile anche però quindi se sono così sviluppati, se sono così conosciuti i corsi di 7 giorni, 14 giorni, 21 giorni è perché si basano su questa cosa qua sulla componente non si preoccupare, in 7 giorni è finita non è così perché poi oggi ho avuto, c'è proprio l'ennesimo riscontro l'ennesima persona, ho fatto il corso X e non ho ottenuto nessun tipo di risultato ho fatto il corso Y e addirittura non venivo completamente cioè sono stato completamente abbandonato addirittura c'erano dei gruppi di mutuo aiuto dove le persone balbettavano più di me e io non sapevo con chi confrontarmi e quindi là ho detto ti capisco io anche stesso negli scorsi anni ho frequentato dei corsi ho speso migliaia di euro e ovviamente non sempre ho ottenuto il risultato sperato ma soprattutto quando poi volevo confrontarmi con persone più brave di me potevo solamente confrontarmi con persone che in pratica erano giustamente molto più balbuzzenti di me e quindi c'era anche il fatto che giustamente dovevo io aiutare loro quindi era veramente una cosa assurda con quali strumenti poi non lo so la cosa assurda era che poi se magari mi rivolgevo a qualcuno per che ne so a un coach per farmi aiutare giustamente poi si prendevano i soldi prima ma nonostante questo comunque poi mi accorgevo che comunque nemmeno il coach era in grado di aiutarmi perché egli stesso balbettava ancora più di me e quindi sempre lo stesso circolo di cose assurde veramente delle cose assurde quindi per eliminare la balbuzia veramente ho dovuto fare tantissimi corsi e giustamente per creare libera le tue parole poi a un certo punto ho messo insieme tutto quanto quello che ho imparato in questi tantissimi anni di allenamento e esercizio e ho messo insieme anche tutto quanto quello che ho imparato anche con l'esperienza del teatro che ripeto non serve assolutamente a smettere di balbettare però sicuramente può dare degli strumenti che si possono utilizzare degli strumenti in più che possono fare sicuramente una enorme differenza quindi questa cosa qua è molto molto buona e perché quindi ho detto tutto quanto questo fatto ho fatto questo preambolo perché? perché quindi dicevo che è impensabile riuscire a smettere di balbettare in così poco tempo però quando si gioca sulla pigrizia giustamente si possono fare tutti quanti questi giochetti molte persone però magari mi dicono oh taglio sì ma non è poi così vero che in pratica esistono quasi esclusivamente questi corsi che cercano di farti smettere di balbettare in poco tempo molti di questi ti dicono che in 14 giorni, in 21 giorni, in 7 giorni o in un mese noi ti diamo semplicemente gli strumenti poi dopo te li agiochi tu ok ci può stare assolutamente però sappiate che anche questo qua è un discorso da fare sempre con le pinze che significa? significa che se io ti do degli strumenti in 7 giorni ovviamente non basteranno mai 7 giorni, 14 giorni, 21 giorni perché? non basteranno mai perché per imparare a mettere in pratica degli strumenti c'è sempre bisogno di tempo altrimenti non esisterebbe più la scuola non esisterebbero più le palestre le scuole di arti marziali per esempio altrimenti perché ci sono ancora queste istituzioni così importanti? vi faccio un esempio quando voi siete andati a scuola no? giustamente quando vi hanno dato lo strumento della scrittura per imparare ad applicarlo ci è voluto tempo ma ovviamente per imparare a scrivere ci vuole poco ci vuole qualche giorno ovviamente ma per imparare a passare da un geroglifico da una scrittura orribile a una scrittura che non dico che è per forza bella ma una scrittura che comunque è decifrabile che si può comprendere ci sono voluti mesi, anni per appropriarsi per appropriarci perché mi metto io anche in mezzo di uno strumento così importante come quello della scrittura ok? ma la stessa cosa vale anche per la palestra se bastassero sette giorni di palestra allora nessuno capito? non esisterebbero più quelli con la panza tanta se invece esistono le palestre è perché giustamente c'è bisogno di impegno e ovviamente se vieni seguito da un personal trainer esperto giustamente tu paghi di più ma riesci anche a ottenere molto più rapidamente o quantomeno hai delle cognizioni in più rispetto a molte persone che magari possono fare degli esercizi in più quindi possono strafare ma in realtà non vanno a migliorare vanno semplicemente a indebolirsi perché magari si rompono un legamento perché vogliono strafare subito il coach il coach responsabile il trainer responsabile è anche quello che ti dice non devi allenarti troppo non devi massacrarti di allenamento devi fare poco ma costante nel tempo altrimenti i risultati non si vedono mai perché ho conosciuto anche persone di tantissimi corsi che magari si sono distrutti di allenamento ma uno balbettono tantissimo e seconda cosa giustamente ora balbettando ancora così tanto si sentono completamente scoraggiati perché dicono ma come io mi sono allenato 20 ore al giorno e balbetto ancora ma il punto non è la quantità di allenamento che fai io lo dico da anni è la qualità è il modus è il modo in cui tu ti alleni che fa la differenza se tu da anni ti alleni tantissimo ma ti alleni male stai facendo un allenamento inutile perché tu devi fare un allenamento finalizzato sempre all'obiettivo che ti sei posto in mente per quel tipo di allenamento altrimenti stai solamente perdendo il tuo tempo le tue energie e tutte quante le altre tue risorse economiche mentali eccetera non è assolutamente così che si ottengono i risultati importanti i risultati importanti si ottengono sul lungo termine buonasera Mauro e buonasera Floriana i risultati importanti si ottengono con il lungo termine nel lungo termine non basta la lettura di un libro per smettere di balbettare non basta andare che ne so a farti quelle due tre ore dal coach no c'è bisogno di un percorso bisogna essere seguiti da una persona i cui risultati vi piacciono quella persona non deve balbettare deve parlare meglio non solamente di voi ma anche di una persona normale perché sennò altrimenti come fa a trainarvi nei momenti in cui giustamente siete anche scocciati e non mi va di allenarvi questa è la cosa importantissima dovete proprio anche fare questo ragionamento qua quando iniziate un corso o quelli che ora chiamano i percorsi che poi alla fine di percorso sono sempre uguali ai corsi di prima però sempre meglio di niente buonasera Mauro perché tutta quanta questa premessa perché perché vi ho fatto l'esempio della scrittura della scuola vi ho fatto l'esempio della palestra quindi per dimagrire serve del tempo ma anche la stessa cosa vi faccio un altro esempio legato sempre al mondo della palestra conoscete per esempio l'esercizio della trazione nella sbarra se uno si approccia per la prima volta a quel tipo di esercizio magari la prima volta riesci a farne persino dalle 5 alle 10 ma ovviamente poi dopo perdi forza e per giorni hai le braccia che ti fanno male cane quell'esercizio sembra un esercizio banale ma in realtà per riuscire a fare quell'esercizio in un numero considerevole cioè per farne tante senza farvi male c'è bisogno di metodo c'è bisogno di tecnica e c'è bisogno poi di un costante allenamento prolungato nel tempo e bisogna farlo con cognizione di causa cioè c'è bisogno della tecnica giusta per farlo altrimenti vi fate un sacco male ora per esempio quello della trazione è un esercizio fondamentale che si fa anche nel karate io pratico karate è un'arte marziale bellissima ve la consiglio assolutamente in quest'arte marziale ci sono tanti esercizi quello della trazione alla sbarra è uno di questi che servono per ovviamente perfezionare sempre di più ma ci vogliono mesi ci vogliono veramente ci vuole veramente tantissimo tempo per riuscire a padroneggiare uno strumento un pugno un calcio ovviamente non può bastare quindi un corso di pochi giorni per riuscire quindi a padroneggiare quello che potrebbe essere uno strumento di difesa personale per questo dico io anche che per esempio i corsi di difesa personale per difendersi dall'attacco da coltello o da un'altra cosa dalla pistola che sono cose allucinanti non fateli perché sono modi per rubarvi i vostri soldi perché uno se uno ha un coltello e una pistola scappate perché difendersi da queste cose ragazzi ve lo dico è veramente complicatissimo nemmeno gli esperti di arti marziali riescono veramente a levare la pistola da uno ma poi soprattutto perché uno che magari vi punta una pistola non lo fa mai come fanno nei corsi che è veramente qua vicino ma sa sempre a una distanza giusta perché vi ho aperto questa parentesi corso di arti marziali perché le arti marziali sono proprio l'esempio lampante che per riuscire ad applicare uno strumento farà buonasera Antonella buonasera sono proprio l'esempio lampante che per riuscire ad applicare uno strumento c'è bisogno di tempo e quindi è inutile dire io in 7 giorni in 14 giorni in 21 giorni vi do gli strumenti no perché se in quei 7 giorni io quello strumento non l'ho capito bene rischio di applicarlo male quindi c'è troppo bisogno di essere seguito non solamente durante quei giorni del corso ma soprattutto alla fine di questi per questo io dico che il corso non serve a niente serve il percorso per smettere di balbettare è inutile è inutile che ci continuiamo a prendere in giro serve questo nei giorni dopo sono i giorni fondamentali perché se io appunto applico male quello strumento dopo non riesco a ottenere il risultato sarò ancora più scoraggiato e giustamente quindi dirò cazzo allora è vero ha ragione il mio medico che dice non si può smettere di balbettare non è vero si può smettere di balbettare sei tu che non hai avuto la fortuna di applicare gli strumenti giusti o quantomeno non hai avuto la fortuna di comprendere quali sono gli strumenti giusti o quantomeno non hai avuto nessuno cazzo che si è messo là e giorno per giorno ha battuto il ferro finché era caldo e ti ha aiutato a eliminare un'abitudine di funzionare come quella della balbuccia e impararne una nuova quindi questa è la cosa fondamentale ragazzi ve lo dico sempre proprio vi voglio veramente annoiare con queste cose perché qualsiasi corso percorso veramente decidete di fare a prescindere da quello di libero le tue parole dovete avere gli strumenti per essere consapevoli di quello che state facendo ok ma gli strumenti per impararli serve del tempo ok dopo questa sfogata Piero buonasera stasera si sta collegando moltissima gente mi fa piacere quindi come ho sempre detto serve il tempo non si può smettere di balbettare in pochissimo tempo c'è bisogno di un percorso c'è bisogno di applicare 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 c'è bisogno di essere seguiti in tutto quanto quello che si fa per questo la frase con la quale vi ho introdotto questa diretta è una frase fondamentale una conoscenza superficiale è più dannosa dell'ignoranza meglio non applicare quello strumento se lo applichi poi male perché ti porta semplicemente poi dopo a parlare peggio a essere ancora più scoraggiato nei confronti degli strumenti per risolvere la buzia e questo poi va a discapito tu e quindi poi dopo veramente non ti metti più in gioco e al circolo vizioso della balbuzie va a unirsi un altro circolo che è quello che è proprio della scocciatura per questi fatti qua per questo ragazzi questi sono gli strumenti per valutare sempre quale corso o percorso è il migliore per voi ma perché io vi sto dicendo tutto quanto questo vi sto dicendo tutto quanto questo perché purtroppo in Italia ci sono troppi di questi corsi che veramente dicono di promettere questi risultati in così poco tempo non fatevi fregare e non fatevi fregare da quella che è la vostra stessa pigrizia ok perché la pigrizia ci frega ci vuole fare ottenere tutto quanto subito per smettere di balbettare ve lo dico anzi ve lo dico in napoletano why you per smettere di balbettare serve il tempo serve la costanza e serve soprattutto una cosa che inizia per vi e finisce con oglia la voglia di mettersi in gioco di farsi un culo così mi è stato quindi chiesto Ottavio ma quindi per smettere di balbettare servono degli anni no non è assolutamente detto perché se tu inizi un percorso e all'interno di questo percorso vieni seguito giorno per giorno ovviamente vieni seguito da una persona che è molto brava in quello che fa è brava a insegnarti le cose è brava anche a farti capire dove stai sbagliando se giustamente c'è tutto quanto questo allora non serviranno anni ma devi battere veramente il ferro finché è caldo ti vengono dati gli strumenti e subito devi applicare 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 altrimenti è tempo perso come quando tu ti iscrivi in palestra paghi la quota di iscrizione paghi i primi tre mesi poi vai il primo mese gli altri due mesi non vai e poi dici sono chiatto però lì non dici la palestra non serve non dici gli strumenti della palestra non servono la palestra serve e nessuno si è mai permesso di dire che gli strumenti della palestra non servono sei tu o siete voi che magari vi scocciate e quindi vi piace mangiare ma anche a me piace mangiare ma allo stesso modo anche a me piace comunicare se devo scegliere quindi tra i mangiare con degli strumenti che mi fanno parlare in un certo modo e il parlare anzi il non parlare il non comunicare ovviamente scelgo sempre la seconda strada questa cosa qui è importantissima tutto quanto questo per dirvi che il 31 agosto il primo settembre il 2 settembre ci sarà la full immersion a Napoli i posti purtroppo sono quasi finiti infatti c'è ancora un posto libero solamente e quindi credo che purtroppo verrà occupato subitissimo ma non vi preoccupate ce ne sarà comunque un altro a fine anno durante questa full immersion veramente ci sarà la possibilità di mettere in pratica tutti quanti gli strumenti di liberare le sue parole e sono degli strumenti che veramente fanno la differenza per voi fanno una differenza enorme tra veramente il non parlare e l'essere liberi di dire tutto quanto quello che volete come lo volete ma soprattutto quando lo volete avere la libertà di dire tutto quanto quello che si vuole io lo dico sempre è una libertà impagabile ma soprattutto avere la libertà e soprattutto gli strumenti che vi consentono di dire tutto quanto quello che volete può fare tantissimo la differenza per voi in ogni campo nel campo veramente del vostro lavoro nel campo degli studi che fate ma in qualsiasi altra cosa perché giustamente anche se volete semplicemente passare una serata divertente volete divertirvi con i vostri amici fare una battuta le battute sono cose di tempismo oppure volete provarci con quella ragazza o con quel ragazzo giustamente se state lì e parlate per un quarto d'ora ma non riuscite a passare il messaggio che siete interessati a quella persona ragazzi la vita è fatta di attimi per questo è importantissimo lo strumento che vi consente di riappropriarvi della comunicazione e utilizzare la comunicazione nell'attimo in cui volete voi e non nell'attimo in cui la balbuccia scegliere per voi questa cosa qua è troppo ma troppo importante durante la full immersion di Libre Le Tu Parole avete la possibilità di mettere in pratica tutti quanti questi strumenti ragazzi perché si è bloccata di nuovo la comunicazione vabbè tutti questi strumenti e mi fate un segno se ci siete ragazzi ci siete grazie a tutti Grazie.